3. La testa come una bara Conobbi un ragazzo, quasi brutale nella sua sicurezza, e me ne innamorai. Giravamo sempre sulla mia 500. Un sabato la polizia ci fermò per un controllo a Piazza dei Caprettari e lui fuggì per i vicoli. Sotto il mio sedile trovarono due panetti di hashish e finì in questura. Il magistrato che conduceva l'inchiesta non credette subito che io fossi estranea all'ambiente della droga e mi fece sottoporre agli esami più umilianti per accertare se avevo partecipato a riunioni di drogati. Quando mi interrogava cercavo di sconfiggere con il mio sguardo il suo, ma non ci riuscivo e avrei gettato la testa contro il muro per la rabbia. Lui mi ripeteva sempre, stando con quel giovane, hai anestetizzato il tuo talento. Lentamente pensai che mio padre sarebbe dovuto essere così, forte e capace di aiutarmi a raddrizzare la mia strada. Fino a che un giorno gli dissi «Dottore, per capire ci ho messo un secolo, ma adesso le dico grazie per avermi fatto la testa come una bara, dove ho sepolto il mio passato». Commento «Chi svolge il proprio lavoro con spirito di servizio, che poi significa con amore, è un evoluto. Lavorando con questa intenzione, il magistrato è stato lo strumento della maggiore comprensione della sua indagata». «Dottore, per capire ci ho messo un sacco di servizio, ma adesso le dico grazie a tutti i nostri spessi che con 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 i nostri spessi che con